se stai utilizzando un pc con webcam integrata o uno smartphone potresti pensare che c'è poco da fare con l'inquadratura niente di più sbagliato come ogni videocamera anche se integrata nel dispositivo che stai utilizzando puoi sempre migliorare il modo in cui la utilizzi i principi che devi rispettare riguardano il punto in cui è posizionata e la sua direzione partendo dal punto devi fare in modo che sia leggermente più in alto dei tuoi occhi alcuni ti diranno che dovrebbe essere alla stessa altezza ed è vero se dall'altra parte però hai qualcuno che può verificare l'inquadratura in questo caso invece sarai solo e mettere la camera leggermente più in alto dei tuoi occhi ti permetterà di rimanere sempre con il viso posizionato la schiena dritta e lo sguardo deciso verso la camera sempre in merito alla posizione fa in modo che non sia né troppo lontana né troppo vicina per evitare di risultare troppo piccolo o troppo grande nell'inquadratura per quanto riguarda la direzione dovresti inclinare la camera in modo che tra la tua testa e la parte superiore del video ci entrino esattamente quattro dita questo ti permetterà di bilanciare le proporzioni della ripresa velocemente e senza errori normalmente i movimenti che si fanno durante una videochiamata sono verso il basso per leggere un documento quindi è corretto avere l'inquadratura apparentemente sbilanciata verso l'alto così da poter gestire senza problemi i vari movimenti imprevisti ora che sai come gestire la camera passiamo al prossimo video